E nello specifico, in questo caso, sono tre le funi che vanno a collegarsi al serbatoio. Allora, in motion, ogni volta che abbiamo questa esigenza di rappresentare delle funi o delle catene, cos'è che dobbiamo utilizzare? Dobbiamo utilizzare delle molle, delle molle lineari. Perché? Perché ci consentono proprio di rappresentare una funa o una catena e allo stesso tempo di rappresentare anche la reale rigidezza della fune o della catena. Ebbene sì, perché andando a definire un oggetto molla, ecco l'oggetto molla di per sé, per definirlo, dobbiamo indicare la sua rigidezza. Quindi, in questo caso, eccolo qui, l'oggetto molla in motion, lo attivo, molla lineare, questo lo tengo in primo piano, visto che ne devo definire tre, e inizio. Qui mi sono preparato il modello del serbatoio, ecco, andando a dividerlo, questo bordo superiore a 120 gradi, così da prendermi i vertici, quindi questa è sempre un'attività di preparazione del modello CAD al calcolo. Questo con questo punto, eccolo, ed ecco già la prima molla che mi sta rappresentando. Molla che avrà, in questo caso, per rappresentare la rigidezza della fune, in questo caso, da 100.000 N su millimetro, eccola. Lascio chiaramente la lunghezza libera pari a quella che è la distanza tra questi due punti. Attivo anche lo smorzatore per evitare effettivamente delle oscillazioni non volute, che poi nella realtà, in effetti, c'è da considerare come minimo l'attrito del mezzo, cosa che invece in motion non possiamo considerare, quindi tendenzialmente, quando si rappresentano funi e catene, si attiva il coefficiente di smorzamento e si applica pari allo 0,1% della rigidezza, che in questo caso è pari a 100. Eccolo qui, benissimo, 100 N su millimetro secondo. Eccolo. E poi, come dire, proprietà prettamente grafiche, giusto per rappresentare graficamente la presenza della fune o della catena, in questo caso io lascio 10 mm, le spire ne imposto una, eccola, e come diametro imposto 10 mm. Eccolo qui. Ok. Confermo.